Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Siamo arrivati da Milano a Udine di notte. Altro aneddoto nell'aneddoto, siamo in autostrada, fai conto che sono 440 km Milano Udine circa, andiamo in autostrada, stiamo a un chilometro e mezzo dal casello, erano tipo le 4 del mattino, vedo davanti a me un pullman turistico, dico Ali mettiti la cintura e fidati, se mette la cintura me la metto, spengo tutte le luci della banda, prendo e mi metto accollato al cazzo di cambi di pullman turistico. Questo qua centocento c'è al telepass e secondo me sono talmente piccoli che ci passano come tipo carrello rimorchio e li siamo passati dietro e non c'è mai arrivata nessun tipo di multa o roba del genere, quindi mi hanno risparmiato qualcosa per il biglietto. Siamo un po' cagati addosso perché non è stata una bella cosa, se quello frenava un po' troppo... Ci ragazzoni! Ciao Atom, grazie per le cento! Allora signori! Sì, è strana... Beh, darò un pochettino le occhiate... Ciao ragazzoni, eccoci qua, eccoci qua! Allora... Intanto abbiamo delle stelline del pass battaglia... Ah... Ah, ci siamo incrociati... Non abbiamo fretta? Oh, mi cambia andare a fare sarla che è ancora più a un bordo zona... Questo robot qua non è brutto questo qua... Eh, ma voglio andare qua all'angolo io... Allora... C'è il suo vicino... Certo, dai, attacca, 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 attacca... Allora... 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 Cazzo! Io ti faccio tre danni in quattro... Ma lei è in un po' di due, non muore... E tu hai fatto un danno in quattro... E tu hai fatto un danno in quattro... E tu hai fatto un danno in quattro... Quelli di Sloan... Ad Andrea Serra, ad Alessio Sansaro... A Sandro Bisacca... A Mod... Sì, dai, dai, dai! Tua madre è quella succhiatrice di cazzi! Pompinera di merda! Porco Dio! Cristo Dio, Cristo! Ma siamo fuori dai parcheggi... Ma non è assolutamente vera questa cosa... E poi comunque qua c'è l'ombra... La signora ci ha detto... Ci ha fatto così... Siamo fuori dai parcheggi... Sì, beh, dimmi un'altra volta che forse non l'ho capito... Ok, dobbiamo andare a prendere la metropolitana a Lima... Soldi? Sono anche le cose nostre... Che dobbiamo... Arrivo nel turno che dobbiamo splittare, immagino... Sì, sì... Che splittiamo, giusto? Ok, molto bene... Grazie amore mio, allora... Sto dicendo, lei come sta? Bene, bene... Molto bene, molto bene... E' incazzato nero... E' incazzato nero... In questo momento... E' visto un pochetto... E' perché mi mandano delle sfide golose... Ma giocare per andare per kill... Non è facile... In... FW... ACT... E' l'altro si chiama... Q... D... A... Guru... Me li potete traccare per favore ragazzi? Sono arrivati troppo convinti... Eh... Quasi sapevano tutto eh... Te l'ho detto subito... Quando li ho visti che sapevano tutto... Se avessi avuto qualche... Vorrei tagliare il più dritto possibile... Ma senza riscare troppo... Venga... Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno capitano! Non voglio cadere... Ok, non cada per fuori... Capitantier di Luna... E' dei nostri... Festa un po... Si si, io sono quello... E' come alert... figa... Ma ti sembra... Tu devi seguirlo... Non so perché far lì... Mi ha bruciato la storia così... Figa, mi ha bruciato... Mio caro... Ok, ok... Ecco... ha ragione ha ragione ha ragione lo devo mettere sui giro non lo metterò lo metterò raga figa ganja al freddo grazie ragazzi grazie ragazzi chiunque voi siate grazie ragazzi grazie buono merda questo caso sono due geni raga chiunque siano poterimi miei su lero erano leggendari chiaro 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 e poi la prima sega che mi sono fatto sono stato male dopo tutta una sensazione strana ma davvero che mi sarà infuocata la cappella ma porca troia ancora mi ricordo ma era grappata la vasca da bagno merda è proprio vero che la prima sega non si scorda mai ricorda giornaletti porno sono stato in probabilmente seconda terza elementare è esatto era quel periodo lì è difficile è difficile regala scorda a platino 3 non me c'è più sincero non mi sembra che stiano facendo un grande lavoro cambi il sistema di rank rimangono per due giorni secondo me ci pigiano un po po culo poi non so ok chill a quella da viaggio streamare con la postazione da viaggio e mi scusi cr20 cosa fa mi scusi cr20 ma cosa fa tra l'altro devo devo mettere un alert personalizzato l'ho messo oggi è grazie mille cr20 per l'euro e venti che fa tra l'altro rima grazie mille per l'eurello perché suona un gruppo espansione signore degli anelli come vedete ragazzi è uscito oggi e contiene due mazzi perfetti per iniziare a giocare se non siete tanto bravi o se volete avvicinarvi a questo vi invito a provarlo e a scoprire tutte le potenzialità e ovviamente a seguire la pagina di magic italia tu devi seguire non so perché parli c'è io ho un problema corso è un cazzo culo cazzo la percadez what the fuck perché non è andata l'impulso perché non è andata l'impulso dentro di prepotenza a fare in culo perché me già rotto il cazzo a cagare infatti plasma nel culo andiamo allora nel cil